Amici del Graffio, ci troviamo a Cupra Marittima nella sala d'arte dell'associazione Arca dei Folli per l'apertura della nona edizione dei Ludi del Bambino Creativo. Apriamo subito con la mostra dedicata al percorso di questi bambini e ne parliamo con Annunzia Fumagalli che ha curato l'iniziativa. Sono una fondatrice dell'Arca dei Folli e responsabile sia del concorso dei Ludi del Bambino Creativo che dei corsi che si tengono in questo piccolo spazio. Oggi diamo il via, come ogni anno, proprio al concorso del Bambino Creativo con una mostra a cui partecipano tutti i bambini che vengono ai corsi da me. I bambini sono dall'asilo fino alla terza media e quest'anno abbiamo anche qualche ragazzino che partecipa oltre la terza media. La mostra si intitola Io mi sento come. Ho cercato di dare questo titolo per scoprire che cosa i bambini sentono dentro di loro e come si sentono in questo momento della loro vita. I lavori sono molto interessanti. E' quello che, insomma, è lo scopo del mio lavoro, questo. Nel senso che quando un bambino accede ai miei corsi non deve per forza diventare un grande pittore. L'importante è che esprima ciò che lui ha dentro. Ha maggior ragione attraverso questo titolo. Quindi ecco, loro si sono espressi, ne sono tantissimi, hanno veramente fatto dei buoni lavori, hanno espresso veramente quello che loro, come loro si sentivano. Sono 86 bambini convolti. Sono 86 bambini, sì. E' un modo comunque per preservare la loro vera identità in un mondo che comunque è contaminato da tanti altri fattori. Quindi si vede... Sì, il problema è che in 8-9 anni di esperienza, avendo avuto centinaia, veramente centinaia di bambini, avendoli valutati anche attraverso il bambino creativo a cui partecipano anche i bambini delle scuole, ho notato proprio nello specifico che i bambini sono sempre più passivi. non riescono più, diventano sempre più pigri e sempre più passivi nell'elaborazione di ciò che hanno dentro di loro. Ma basta insistere un pochino, basta dagli tempo che vengono fuori delle idee straordinarie. Quindi il bambino ha proprio bisogno di tempo, di silenzio, di ascolto, di attenzione proprio, quella vera, quella che tu ti metti lì e ascolti quello che può fare, insistendo, perché lui tende a non faticare, come posso dire. Non vuole faticare, non si vuole impegnare. È talmente preso dalla velocità delle cose, del pensiero, che stare lì un attimo e pensare veramente fa fatica, non vuole. Invece in questo spazio io cerco di dargli questa opportunità che è straordinaria, vengono fuori veramente delle cose straordinarie. Infatti nove anni sono veramente un lungo percorso durante il quale si sono alternati molti bambini. C'è qualche opera o qualche messaggio particolare che magari ti hanno colpita nel corso di questo periodo temporale? Sì, ci sono stati tanti bambini che sono cresciuti, moltissimo, che sono diventati dei giovani talenti, partendo magari da sei anni fino ai 13, 14, 15 anni, hanno fatto poi delle mostre addirittura con noi che siamo maestri dell'arte. Quindi ecco, il percorso funziona, però ci vuole tempo. Ecco, qui hanno il tempo e difficilmente un bambino abbandona quando arriva qui perché trova uno spazio dove non solo crea ma anche gioca, si confronta, diventa una piccola comunità di sette, otto persone a seconda del turno e si collabora tutti insieme. È veramente un'esperienza straordinaria, di vita proprio. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Non mi sforzerò mai di pensare che quando noi, diciamo, di noi stessi appariamo, cioè è sempre oggi il più forte di tutti i miei, l'io è più forte di qualsiasi altra struttura sociale, ma addirittura della religione, se possiamo dirla, così, e noi ci mettiamo sempre di fronte in tutto a ciò che noi siamo, dimenticandoci che tutta la natura è nata da un protozoo e questo l'anno scorso con l'amore e la soluzione l'abbiamo detto molto bene, quindi tutte le piante, tutti gli animali, noi stessi, vengono da un'unica radice. Non posso pensare che la mia vita sia più importante di quella dell'universo. E' quello che adesso sta accadendo, che dove pochissima gente pensa di essere immortale, ha acquisito un potere enorme, soprattutto a livello di punto di vista anche economico, e che l'1% della popolazione ha le ricchezze di tutte le altre persone. Una bellissima realtà, questa del bambino creativo qui a Cupra Marittima, di cui siamo molto orgogliosi come amministrazione, è una bellissima realtà che porta i bambini a contatto con l'arte, quindi dà a loro la possibilità di esprimere tutte le loro emozioni e le loro capacità. Quindi siamo molto contenti appunto di questa realtà e in questi giorni proprio è venuto a mancare diciamo quello che ha iniziato tutta questa realtà che è il maestro Nazareno Tomassetti, di cui abbiamo molte opere qui a Cupra. E quindi diciamo che anche oggi, in questa occasione, un po' il passaggio del testimone a questi bambini tramite questa arte che fluisce verso di loro. Quindi un pensiero, un ricordo e un grande ringraziamento a questo grande maestro di Cupra Marittima. La nona edizione dei Ludi del Bambino Creativo si avvale di una sezione in più, quella teatrale, curata dai registi e attori Francesco e Paolo Aceti della Scuola di Pedagogia Teatrale del Mercantini di Ripatranzone. Com'è stato il vostro percorso con questi bambini nell'ambito di questa manifestazione? Abbiamo cominciato quest'anno la collaborazione con l'Arca dei Folli e praticamente lavoriamo già da tempo con i bambini. Per noi è stato chiaramente un invito ad hoc perché crediamo nel fatto che i bambini, a parte siano il domani e il domani l'altro del mondo, ma sono importanti nell'ambito teatrale perché tramite il teatro possiamo insegnare loro delle regole precise per quanto concerne la vita sociale. Cioè quando si è bambini non si insegna il teatro per fare il teatro, il teatro è un mezzo per poter insegnare loro all'altro, al concetto dell'altro, alla solidarietà sulla scena, cioè quando il compagno è in difficoltà deve essere aiutato, non c'è spazio per il protagonismo e bisogna aiutarsi. Quindi è un gioco di squadra e dunque in questo contesto dove già valgono le stesse regole nell'ambito dell'arte figurativa ci siamo trovati a nostro agio e abbiamo ben accettato l'invito a partecipare a questa importante realtà, a questa importante manifestazione. È un cammino che sicuramente proseguirà anche il prossimo anno? Sicuramente, da parte nostra c'è tutta l'intenzione e la volontà. Ecco, quest'anno praticamente la sezione teatro è rivolta ai bambini e ai ragazzi della scuola dell'obbligo e praticamente tutte le scuole che parteciperanno dovranno appunto scrivere un breve monologo di tre minuti sulla stessa tematica appunto delle arti visive, cos'è per loro la felicità, un mondo felice. Dopodiché noi due andremo nelle varie scuole a fare una prima preselezione e i monologi diciamo più interessanti, quelli che riteniamo più degni di nota, saranno poi scelti per la fase finale dove oltre a noi ci saranno altri esperti come proprio commissione e poi vedremo chi vincerà. Sicuramente, grazie. E noi ci troviamo sempre nella sala parallela all'Associazione Arca dei Folli e questo studio che vedete era la sala d'arte di Nazareno Tomassetti, del maestro Tomassetti. era ma noi diciamo sempre è perché anche se il maestro Tomassetti ci ha comunque lasciato è sempre presente in questo studio che noi visitiamo insieme a Danilo Tomassetti che è il figlio. Oltre alle pregiatissime opere d'arte realizzate dal maestro Tomassetti ce n'è una in modo particolare che è stata esposta anche a Roma, se non erro. Sì, però sta nell'altra sala e è l'ultima opera che lui ha fatto che poi dopo... Laudatesi a Eternum. Sì, è un'opera particolare e non per nulla e poi è stata l'ultima forse era un segno del destino e è stata esposta alla Triennale di Roma e poi tra i pochissimi maestri prescelti proprio dalla Triennale di Roma è stata esposta alla Mostra del Dalai Lama quando lui, Dalai Lama, è andato a Palermo in visita e a Villa Magnisni a Palermo. È un'opera particolare perché mentre lui ha visto questo all'Eterno come la finalità cioè da un inizio alla fine della fede cristiana da parte mia invece ho ricostruito la trasformazione alchemica dell'Eterno Ritorno con l'albero filosofico e con altri elementi alchemici e soprattutto dal passaggio dal vecchio al giovane attraverso due mani che si intrecciano. E quindi è tutto il messaggio che lui ha voluto lasciare negli ultimi anni lui ha potuto scolpire sempre meno questa è stata proprio la sua ultima opera molto importante poi hanno fatte altre realizzate altre per esempio si divertiva io gli facevo bene o male le maschere della sua opera e lui poi le ritoccava e questi sono gli ultimi frammenti che lui ha fatto. Comunque il ricordo del maestro è eterno perché ci sono molte... io adesso sto proprio nel preciso luogo dove ieri qui è stato l'ho vegliato e abbiamo vegliato con tutta la famiglia e ho avuto una pace particolare quando sono stato con lui tutta la notte qui in mezzo alle sue sculture lui ha voluto lasciarci un messaggio fortissimo lui era un uomo molto cristiano e aveva una bondà e un amore infinito e questo amore e questa bontà ci ha voluto lasciare è stato ricordato da tantissima gente dal mondo dell'arte da attori da tutta gente che l'hanno conosciuto sono rimasti colpiti dalla sua scomparsa perché due volte che mi ha messo dell'arte italiana che tra l'altro adesso verrà messo nella una nuova edizione della De Costini che farà il suo atlante d'arte diventerà anche un atlante della storia e dell'arte e lui sarà messo tra i maestri della storia e dell'arte nel mondo e quindi lasciando questa grande traccia dell'arte italiana e io spero che a qualcuno cupra sempre più si capisca l'importanza di avere un maestro perché per me è ancora presente con le sue opere di questa valenza ma ancora più l'importanza del messaggio umano che lui ci ha voluto lasciare e che noi stiamo trasmettendo a questi bambini per iludio e il bambino creativo la nuova edizione esatto infatti concludiamo questo nostro incontro proprio parlando di vita quella vita che generosamente ha vissuto il maestro Tommassetti e ricordiamo anche che comunque sia ci sono molte sue opere che impreziosiscono la città di Cupra Marittima sì sono diverse opere sia a lungomare che nella chiesa di San Basso che stanno a testimoniare ciò che lui ha voluto donare spontaneamente in modo gratuito proprio alla cittadinanza e lui ci tenava tantissimo a fare questo dono proprio per la cittadinanza non tanto per l'istituzione ma per i cittadini e il fatto che lui amasse in modo viscerale a Cupra non ha voluto mai andare fuori mai spostarsi da Cupra perché voleva portare questo messaggio suo di amore a Cupra grazie Danilo grazie per questo ricordo voglio dire solamente che appunto il concorso che è dedicato a Micio Giampaolo Proietti e a mio zio Prigno Spina quest'anno chiaramente sarà dedicato principalmente a mio padre Nazareno Tomassetti ti ringrazio auguriamo un buon proseguimento con i ludi del bambino creativo grazie a tutti